L'olfatto è il senso che ci permette di percepire gli odori. I recettori olfattivi si trovano nella mucosa del naso. Da questi recettori partono delle fibre molto sottili che attraversano la lamina clibrosa, che è un piccolo osso posto al di sopra del naso. Da qui arrivano fino al bulbo olfattivo, che è la struttura nervosa che invia impulsi nervosi al cervello tramite il nervo olfattivo. Le sostanze odorose presenti nell'aria si sciolgono nel muco prodotto dalle ghiandole della mucosa nasale. Così riescono a stimolare i neuroni olfattivi. Passiamo adesso al gusto. Gusto ed olfatto sono collegati tra loro. Il gusto è influenzato dall'olfatto. Ad esempio, quando siamo raffreddati, non diminuisce solo l'olfatto, ma anche il gusto. Infatti non riusciamo a sentire i sapori come li sentiamo quando non abbiamo il raffreddore. Il gusto è il senso che ci permette di distinguere e percepire i sapori. L'organo del gusto è la lingua. I calici gustativi sono recettori presenti sulla lingua, in particolare nelle papille gustative, che sono le sporgenze che troviamo sulla lingua. Abbiamo due tipi di papille, quelle fungiformi e quelle filiformi. Quelle fungiformi contengono i recettori sensibili ai sapori, mentre quelle filiformi distinguono la forma e la consistenza dei cibi. Noi riusciamo a sentire i sapori solo quando il cibo è sciolto nella saliva e principalmente riusciamo a distinguere cinque sapori. Dolce, salato, acido, amaro e saporito. Saporito è solitamente chiamato umami, che è un termine giapponese. Come si vede nell'immagine, ogni zona della lingua è addetta al riconoscimento di un sapore. Passiamo adesso all'ultimo dei nostri sensi, il tatto. I recettori del tatto sono situati nel derma, che è lo strato interno della nostra pelle. Il tatto ci permette di capire se un oggetto è molle, è duro, è liscio, ruvido, la sua forma e così via. Le fibre nervose dei recettori del tatto arrivano fino al midollo spinale. Qui vengono raccolti gli stimoli da alcune cellule specializzate. E infine gli stimoli vengono inviati al cervello. Ci sono zone del corpo più sensibili di altre al contatto con gli oggetti. Ad esempio il palmo delle mani o il passare delle dita. Ad esempio la lingua e le guance sono più sensibili al caldo e al freddo.